Ecco te lì. Ehi, chi è quello? Non hai scappato? Laggiù, vicino alla porta! Alzo! Può scappare, fatela fuori! Ehi, chi cavolo? Fermo al culo! E va bene. Volete giocare? E allora... Ehi, chi cavolo! Ehi, chi cavolo! Ehi, chi cavolo! Ehi, chi cavolo! Oh no! Oh no... Oh no! So. Guardate gli infatti! Ma girala! Ucciderà, strano! Non! Ma girala! On... ... ... ... ... ... ... ... ... ... No, 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 no. Non so se siete tutti morti, ma non vi conviene fare scherzi! Finireste con me i vostri amici, mi avete sentito? Sì? Sì. Non più tu sia un riloggio. Sì.